Lorenzo, hai presentato la parte economica dello studio Cresme Easy in cui si parla di un mercato potenziale della sismica e del terremoto. Quali dati significativi di questo studio? Diciamo che allargando gli incentivi alle zone 1, 2 e 3 abbiamo preso gran parte del paese, quindi 20 milioni di famiglie italiane sono interessate da questi incentivi. La valutazione che abbiamo fatto sul potenziale del mercato considerando anche le caratteristiche dello stocco edilizio del paese, l'epoca di costruzione, le strutture portanti, quindi ipotizzando un primo scenario di vulnerabilità, stiamo parlando di 980 miliardi di euro di mercato potenziale. Naturalmente sarà difficile che questo mercato si realizzi in un arco di tempo così breve, però certo è una grande sfida per il paese. In un mercato potenziale di queste dimensioni avete fatto una valutazione di quanto si parla di rattoppo e ristrutturazione e quanto invece di riedificazione? La riedificazione a seconda delle norme potrebbe essere oggi solamente nelle zone 1, quindi è un segmento molto piccolo. In realtà si tratta di intervenire in maniera pesante per ridurre il rischio sismico del patrimonio esistente, quindi lavorando sul patrimonio esistente. Un'altra delle riflessioni che abbiamo fatto è stata mettere in relazione questo potenziale di mercato con gli incentivi che sino ad oggi sono intervenuti sul tema della riqualificazione edilizia e sulla riqualificazione energetica. Oggi dal 2013 noi sappiamo che vengono incentivati con questi due provvedimenti, quindi il 50% di incentivo e il 65% nel complesso, 28 miliardi di euro all'anno di lavori. Stiamo parlando di qualcosa di molto importante. Naturalmente l'incentivo per la riduzione del rischio sismico arriva sino all'85%, 96 mila euro d'alloggio, cioè il potenziale si alza moltissimo. E' quindi una grande occasione che si ha davanti per intervenire sulla messa in sicurezza del nostro Paese. Un'altra analisi che abbiamo fatto importante è che in questo momento, voglio dire, negli ultimi anni si spendono mediamente quasi 6 miliardi di euro all'anno per interventi post-sisma. Probabilmente a questo punto ci troviamo di fronte con una ipotesi di intervento di prevenzione che non è uguale nella storia del Paese. Uno degli elementi critici per quanto riguarda il sistema bonus è la fase decisionale. Noi, voi avete ipotizzato 980 miliardi, ma in un mondo fatto di condomini sarà possibile assegnarli? Diciamo che, allora, intanto bisogna fare bene i conti di com'è il patrimonio edilizio italiano. Il 76% degli edifici italiani è monobifamiliare e non ha a che fare con i condomini. Quindi intanto c'è questo enorme potenziale distribuito sul territorio all'interno di questo sprolo urbano che caratterizza il nostro Paese e quindi è una decisione di singole famiglie. Certamente c'è il problema della concentrazione nelle aree urbane, degli edifici plurifamiliari e quindi del processo decisionale legato ai condomini, che è, sappiamo, un percorso difficilissimo. Per questo è importante fare azioni come quelle che abbiamo fatto, per cominciare a raccontare che ci sono queste possibilità di intervento e questi incentivi che aiutano anche con la cessione del credito, che è un elemento nuovo, a intervenire. La cosa che mi sorprende è che sino a ieri, praticamente, o sino a oggi, grandi azioni di promozione non se ne sono viste. C'è un grande bisogno di comunicare la possibilità, di ragionare su come si può fare, quello che abbiamo cercato di fare, per far capire che è un'occasione da non perdere. Certamente il processo decisionale all'interno dei condomini è un processo complesso. Siamo qui a Modena per il primo di una serie di tre appuntamenti, i prossimi saranno a Roma e a Macerata, nei quali andiamo a illustrare lo studio che è stato realizzato in collaborazione tra Cresme e Isi. Perché questa decisione? Perché abbiamo ritenuto opportuno mettere a disposizione della filiera e di tutti gli operatori del settore un documento di questa natura. Farei un passo indietro. La nostra associazione Isi, posso dire che ha un po' la primogenitura nella proposta di una serie di incentivi legati a interventi antisismici che fossero di natura strutturale e quindi con un periodo di applicazione ampio nel corso del tempo, è selettiva, cioè non più incentivi a pioggia, bensì incentivi che andassero a premiare l'efficacia e l'efficienza degli interventi stessi. Bene, oggi dobbiamo dire che lo Stato, a partire dalla legge di bilancio del 2017, ha finalmente intrapreso in maniera decisa una politica legata alla prevenzione del rischio sismico. Infatti, se escludiamo quel timido tentativo in questa direzione intrapreso subito dopo il terremoto dell'Aquila con i 963 milioni spalmati in sette anni gestiti dalla protezione civile insieme alle regioni, di fatto una vera politica di prevenzione del rischio sismico non era mai stata attuata. Oggi devo dire che lo Stato ha fatto la sua parte, forse addirittura ben oltre quelli che potevano essere le nostre speranze e i nostri auspici. Quello che manca in questo momento, a nostro avviso, è la conoscenza. C'è sicuramente un deficit di conoscenza su quelle che possono essere le modalità e gli strumenti per poter accedere agli interventi di tipo antisismico sostenuti da incentivi di natura fiscale. Quindi l'obiettivo dello studio è quello di dare una risposta al come e a cosa fare. In questo senso, al di là dell'analisi statistica, che è una premessa indispensabile curata dal Cresme, l'intervento e il contributo di Isi è andato fondamentalmente in tre direzioni. In una prima parte del rapporto si è cercato di mettere a sistema quelle che sono le procedure, gli interventi, i passaggi necessari per poter accedere agli incentivi di tipo antisismico. In una seconda parte del rapporto si è passata in rassegna le principali tecnologie che oggi le aziende mettono a disposizione dei professionisti e delle imprese per poter agire con efficacia a seconda della tipologia di intervento, del tipo di edificio e delle modalità attuative. La terza parte dello studio curata da Isi, viceversa, vede il contributo di 14 aziende che mettono a disposizione in una sorta di abaco di tecnologie i loro prodotti, le loro tecnologie e anche in questo caso diventa uno strumento operativo a disposizione dei tecnici e delle imprese che dovessero decidere di effettuare interventi di questo tipo. Commissario, tutto il Paese sta parlando di sisma bonus, di interventi per favorire una prevenzione sismica in tutta Italia, ma voi in questo momento avete una fase di emergenza, quindi cosa state facendo nell'area del cratere per incentivare, per agevolare gli interventi di ricostruzione? Innanzitutto abbiamo fissato dei paletti sulla ricostruzione leggera, le cosiddette immobili B, fissato dei paletti di natura tecnica per poter consentire l'utilizzo delle risorse stanziate dal governo ai fini del rafforzamento locale. Inoltre l'Agenzia delle Entrate recentemente ci ha espresso un parere su un interpello che abbiamo fatto e che sostanzialmente consente di utilizzare, oltre al contributo per la ricostruzione leggera, di aggiungere anche per arrivare ad un livello sismico migliore degli immobili privati anche la possibilità di accedere al sisma bonus. Abbiamo prodotto un'ordinanza molto importante i cui effetti riteniamo si vedranno nei prossimi due mesi, che è l'ordinanza 46 per accelerare le procedure di ricostruzione, dando una grande responsabilità ai professionisti che potranno già fare il calcolo presuntivo del contributo utilizzando l'algoritmo che utilizziamo noi come struttura commissariale in via preventiva, in modo tale che il cittadino sia consapevole fino in fondo dei propri diritti, tagliando alcuni pezzi di burocrazia che abbiamo ritenuto non per forza necessari o che rappresentano richieste di informazioni che come commissario avremmo potuto avere da altri soggetti pubblici. Questo sicuramente rappresenta la parte più importante del lavoro che abbiamo fatto sulla ricostruzione privata, mantenendo sostanzialmente inalterati gli aspetti normativi. Invece sulle norme e conseguentemente anche sull'ordinanza abbiamo fatto un grandissimo lavoro sulla parte pubblica, abbiamo votato, approvato ordinanze per oltre un miliardo e 300 milioni dove finanziamo tutte le scuole, tutte le case comunali, cratere fuori cratere, dove finanziamo quelli che i sindaci hanno ritenuto le loro priorità come opere pubbliche, tutti gli immobili di edilizia popolare, tutte le caserme, quindi tutto il piano della sicurezza e dove finanziamo altre 400 chiese con altri 250 milioni stanziati per la ricostruzione delle chiese, con tutto l'impatto che questo avrà in termini di tecnologia e di qualità perché le chiese ovviamente sono tutte soggette a vincolo e la stragrande maggioranza rappresentano anche beni culturali particolarmente importanti per la storia del nostro paese. Nella prossima settimana approveremo il piano sul dissesto idrogeologico. Per la prima volta nella storia delle ricostruzioni al commissario è stato concesso dal Parlamento di poter utilizzare una quota delle risorse finalizzate alla ricostruzione per garantire una ricostruzione sicura al 100%, ovvero interventi su frane che hanno magari connessione diretta con il terremoto, ma anche su frane o problemi idraulici, zone catalogate R4 tanto per intenderci, che potrebbero rendere la ricostruzione non completamente sicura e credo che questo rappresenti un punto di non ritorno nella legislazione italiana delle ricostruzioni. Commissario, l'area dei cratieri in questi giorni è stata sulla stampa anche per il problema delle casette e degli alloggi per i terremotati. Non crede che sia il caso di prepararci, visto l'esperienza che lei sta vivendo, di prepararci per i prossimi terremoti già pianificando ora quali potrebbero essere i requisiti per i prossimi appalti quando arriverà la prossima tragedia? In realtà una parte di queste polemiche sono state strumentali e i numeri che abbiamo in mano lo dimostrano. Credo che il tema della pianificazione della seconda fase dell'emergenza dovrà rientrare in una legge quadro e nelle mie consultazioni con tutti i gruppi parlamentari quando ho cominciato la mia attività da commissario è emersa molto forte questa esigenza di avere una legge quadro che abbracci la seconda fase dell'emergenza perché sulla prima la protezione civile è la prima nel mondo e poi le fasi di ricostruzione, almeno le norme generali. Detto questo c'è stata anche un'altra polemica su altre tipologie di casette, ovvero le casette abusive costruite dai singoli cittadini che non volevano aspettare le SAE, le casette che citava lei, oppure utilizzare il contributo di autonoma sistemazione per andare in affitto in un altro immobile. Su questo noi abbiamo fatto una sanatoria ma non abbiamo fatto un condono. In questi giorni i tempi per la presentazione della richiesta di sanatorio sono scaduti e abbiamo avuto alcune polemiche, io incontrerò i comitati dei cittadini giusto domani nella consapevolezza però che almeno da parte nostra non ci sono intenzioni di condono. Se la prossima legislatura, il prossimo Parlamento intenderà intervenire ulteriormente rispetto a questo, ovviamente lo potrà fare, ma io credo che l'intervento che abbiamo già fatto nel decreto 148 consenta a chi ha deciso di costruirsi una casa senza le autorizzazioni previste di sanare almeno la più parte degli abusi che sono stati realizzati e di rimanere fino a che non avrà la ricostruzione della casa propria. È un intervento legislativo anche in questo caso unico che non è mai stato fatto negli ultimi vent'anni nella ricostruzione dei terremoti proprio perché i numeri che ci arrivano dal territorio erano numeri importanti per più di 400 casette presenti nel cratere. Mi è sembrato particolarmente interessante che questo ciclo di giornate sia iniziato a Modena in una regione che è stata colpita da un terremoto cinque anni fa perché sicuramente questo terremoto, come ho avuto modo di evidenziare nel mio intervento, ha mostrato come la maggioranza del nostro territorio sia fortemente vulnerabile per tipologie costruttive, per età della costruzione soprattutto in aree come quella appunto nostra del territorio del Modenese e dell'Emilia in generale che non era stata soggetta a nomative di tipo antisismico fino a pochi anni fa. Sicuramente in queste aree, come ho avuto modo di evidenziare, la vulnerabilità può essere veramente importante sia per i centri storici sia per le attività industriali nelle zone produttive. Il nostro è stato forse considerato il sisma industriale più importante probabilmente al mondo perché ha colpito un'ave industriale fortemente produttiva dove tutti gli edifici a struttura prefabbricata non erano progettati con criteri antisismici e oltre 3.000 edifici sono stati fortemente danneggiati quando non crollate e anche lasciando delle vittime. Quindi sicuramente si deve partire dalle zone più popolate quando si parla di incentivi perché queste sono le aree in cui maggiormente si può intervenire con degli strumenti di tipo economico di tipo fiscale come appunto il sisma bonus e per edifici sia in muratura che in cemento armato soprattutto in queste aree dove non parliamo di edificazione di grandi palazzi ma un'edificazione diffusa, l'intervento fiscale tramite il sisma bonus può avere una grandissima rilevanza. Anche i numeri che ha presentato il Cresme dal punto di vista proprio di quella che è la tipologia costruttiva in queste aree e che peraltro caratterizza non solo l'Emilia ma anche buona parte dell'Italia ha mostrato questo. Su questi tipi edifici poi in particolare è anche certamente più facile intervenire non solo dal punto di vista dell'organizzazione di quello che è il potenziale finanziamento ma anche proprio da un punto di vista tecnico. E sicuramente poter partire con un gran numero di interventi anche proprio su edifici monofamiliari o bifamiliari darebbe poi anche quella conoscenza dello strumento tecnico fiscale del sisma bonus che poi può consentire di fare interventi ad ampia scala sull'interno territorio nazionale. Negli eventi sismici passati è passata l'idea, in particolare sui media, che le costruzioni in muratura non siano idonee per sopportare gli eventi sismici. Questa è un'idea completamente sbagliata. La differenza tra comportarsi bene e comportarsi male dipende semplicemente se le costruzioni sono state progettate e costruite bene oppure progettate e costruite male. Sono crollate le costruzioni in muratura che avevano dei grossi difetti di costruzione, le costruzioni fatte bene hanno resistito, si sono danneggiate ma hanno evitato che le persone subissero danni fisici. Questo è il primo punto da cui bisogna partire nel considerare quello che è successo negli eventi del 2016. L'altra cosa che abbiamo visto in queste esperienze sul campo è che le costruzioni rinforzate con interventi anche semplici ma estremamente efficaci come quelli realizzati in particolare in Valnerina negli anni 90 hanno avuto un comportamento veramente buono. Anche qui evitando assolutamente la perdita di vite umane e il crollo delle costruzioni e quindi questo è un dato di fatto di cui bisogna tenere conto diciamo adesso pensando al futuro, cioè pensando di effettuare degli interventi di prevenzione e quindi di riduzione del rischio sismico attraverso strumenti come questo del Sisma Bonus che certamente rappresentano un'occasione importantissima per fare prevenzione in Italia. Grazie a tutti.